La polizia di Stato di Trieste ha denunciato due cittadini stranieri, entrambi alterati dall'abuso di alcol, in due diversi interventi in centro città. Nel primo caso, una cittadina olandese, M.A.D., queste le sue iniziali del 1973, in evidenza è stato di ebbrezza alcolica, dopo aver avuto un alterco con un passante a opposto resistenza alla volante che era intervenuta per sedare la lite. I poliziotti, dopo aver affaticato non poco per calmare il 44enne olandese, lo hanno accompagnato in questura e segnalato all'autorità giudiziaria per ubriachezza molesta e la resistenza pubblico ufficiale. Nel secondo, in largo barriera, un cittadino pakistano, M.B., del 1995, è stato denunciato per aver lanciato in aria una bottiglia di vetro facendola affrantumare pericolosamente a terra. La volante è intervenuta su richiesta di un passante, ha identificato il giovane in evidente stato di alterazione alcolica e lo ha deferito all'autorità giudiziaria per il getto pericoloso di cose.